Questo video riguarda i migliori 3 Autoradio 2 DIN qualità prezzo. Il vincitore della qualità è l'Anquay Autoradio 2 DIN. Anquay 2022 nuovo autoradio con integrato Android 10,1 più RDS FM e Hi-Fi Wi-Fi Bluetooth e fotocamera di backup e navigazione GPS. Anquay Car Internet Multimedia e il sistema Android 10.1. Touchscreen IPS 1080p ad alta definizione da 7 pollici. Touchscreen IPS in vetro temperato antigraffio con bordo curvo 2.5D ad alta sensibilità, alta definizione e alta trasparenza. Supporto USB barra Bluetooth barra Wi-Fi barra Mirror Link barra controllo del volante. Collega il Bluetooth per effettuare chiamate in viva voce, riprodurre musica, salvare contatti e playlist. Connetti Wi-Fi per accedere a Internet. Input USB microfono fotocamera posteriore. Uscita audio-video qualità audio Hi-Fi 4X 60 W Video HD 1080p. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente sotto la descrizione del video. L'alternativa è il Ezyclo Autoradio 2 DIN. Questa radio doppio DIN compatibile con le funzioni Apple CarPlay e Auto, è dotata della più recente tecnologia di controllo vocale. Basta connettersi con il tuo smartphone che ti consente di accedere alla navigazione della mappa, ai contatti telefonici. Il nostro stereo doppio DIN è dotato di un touch schermo capacitivo ad alta definizione da 7 pollici. Il tocco sarà più sensibile e preciso. Supporta la riproduzione di video 1080p. La radio Apple CarPlay ha due USB. Riproduzione della porta USB. L'altra USB ha una funzione di ricarica rapida da 2A, comoda per caricare rapidamente il telefono cellulare. Il collegamento Mirror del telefono consente di visualizzare tutto il software del tuo iPhone smartphone sulla radio touch schermo. Il nostro stereo CarPlay ha doppio DIN dotato di 12 luci LED HD, visione notturna e telecamera di backup impermeabile con angolo di visione di 170 gradi, un'esperienza più sicura ed efficiente in termini di tempo. Il vincitore del premio è l'YYK2J DIN Autoradio. La dimensione di installazione di questa auto stereo 2DIN è 178 mm x 100 mm. L'autoradio Bluetooth è dotata di touch screen capacitivo da 7 pollici e alta definizione 1080p ad alta definizione. La radio GPS Android 2DIN ha una mappa universale integrata. Puoi anche acquistare mappe offline direttamente dal Play Store per navigare offline. L'autoradio touch screen è dotata di Bluetooth 4.0 integrato con A2DP, supporta chiamate o ricezione in viva voce Bluetooth, riproduzione di musica Bluetooth e caricamento della rubrica. Questa lettore multimediale per auto supporta la proiezione unidirezionale di telefoni iOS sulla macchina. Supporta la connessione bidirezionale tra telefoni Android e host Android. Questo pacchetto di auto multimediale player Android contiene una telecamera di backup per visione notturna impermeabile IP68 Mini 12 LED con cavo video AV e manuale di installazione dettagliato. Se il video vi è piaciuto, saremmo lieti di ricevere un mi piace e un commento.